A causa della situazione politica italiana, è stato solo nel 1945 che ho avuto modo, per la prima volta, di vedere e ascoltare i lavori di Schoenberg, di Stravinsky, di Weber, di Indemith, di Bartok, di Darius Mio. Avevo già 19 anni. Di quel periodo cruciale vorrei semplicemente dire che tra i vari pensieri e le emozioni suscitate in me da quegli incontri, uno è ancora intatto e vivo dentro di me tutt'oggi, la rabbia. La rabbia di realizzare che il fascismo mi avesse privato, fino a quel momento, della conoscenza delle più essenziali conquiste musicali della mia stessa cultura, e, ancora, che fosse stato davvero capace di falsificare la realtà spirituale. Così scriveva il grande compositore italiano Luciano Berio, raccontando in presa diretta il suo modo di reagire alla dittatura fascista e di spiegare come l'aspetto per lui più grave di quel periodo così nefasto e tragico per il nostro paese sia stato rappresentato proprio dalla falsificazione della realtà spirituale, dalla impossibilità che alle giovani e giovani dell'epoca, ma a tutti, era concessa appunto di entrare in contatto con quello che la cultura europea, e non solo, anche ciò che accadeva in America, che accadeva negli altri paesi dal punto di vista musicale, dal punto di vista culturale, poteva e sapeva produrre. Credo che tra le tante testimonianze, tra le tante motivazioni che si possono oggi addurre per ricordare ancora una volta il 25 aprile come una data fondamentale per la libertà del nostro paese, ecco, questo abbia un particolare significato, perché il riferimento che viene fatto, sia pure dentro circostanze biografiche, è un significato universale. Sostanzialmente la repressione della libertà di pensiero che la dittatura fascista, che il nazifascismo, purtroppo imperante fino al momento della liberazione, ha provocato, è stata una condizione di falsificazione, dell'esperienza umana, che invece è basata sul libero scambio di idee e di pensieri. Ecco quindi che le parole di Luciano Berio, che proprio in quegli anni aveva vissuto invece a Milano la straordinaria stagione dopo la liberazione, come un momento di grande libertà culturale, come un momento di grande libertà non soltanto individuale, ma anche libertà del pensiero, della circolazione delle idee, ecco quindi che queste parole credo possano essere il miglior viatico possibile per festeggiare ancora una volta il 25 aprile, nella rinnovata consapevolezza dell'importanza che questa data ha nel calendario della Repubblica Italiana, nella nostra città, città che ha rappresentato in maniera molto forte dal punto di vista simbolico, ma anche dal punto di vista concreto, la capacità di liberazione appunto dalla dittatura fascista, non soltanto nel momento in cui questa è avvenuta concretamente con la grande giornata del 25 aprile, ma con tutto quello che è seguito dopo, quindi con la ricostruzione del tessuto culturale, sociale e economico di una città e di un paese che essendo diventato finalmente e nuovamente libero ha saputo appunto garantire la libertà ai propri cittadini e alle proprie cittadine. Questo credo che sia il messaggio più forte che può arrivare in un momento così particolare come quello che ci troviamo ad attraversare oggi e ancora da Milano un buon 25 aprile a tutti. La liberazione è accaduta fisicamente e concretamente nel 1945, ma ogni anno, nel momento in cui ricordiamo questa data, possiamo nuovamente costruire un cammino e un percorso che di questa liberazione è appunto figlio. Grazie a tutti e buona festa della liberazione!